Il 4-8 saranno i finalisti di questa gara in linea riservata, come detto, alla categoria giovanissimi dei maschi. Partita la prova anche per questi concorrenti. Giro concreto naturalmente per questi atleti, per questo brevissimo tratto guadagnando la partenza per passare la loro prova sui 400 metri di distanza prevista per le gara in linea di questa categoria. Ricordiamo i primi quattro concorrenti. Siamo già le battute finali ed ecco l'arrivo sul treguardo.